Ah, miseria... Obbedisco agli ordini, agli ordini... Obbedisco agli ordini... Nei secoli fedeli... Si è calato nel ruolo di camera, almeno in modo... Quest'anno si è calato proprio nel ruolo... Non ho fatto ricordo... C'è prima la batteria... Si sta ventinu tranquillo... Mi hanno dato anche la riserva... Sì, vedete... In questo modo... ... Ma ti hanno tutti chi chiede? Io ragazzi, cioè, cosa si possa vedere? Io ragazzi, perché poi non hai la licoria a toccarmi. Io, io... Mettilo in galera. Ma poi stai a rinviare? Ma che cazzo stiamo trovando? È un rinvio nostro. Non c'era, non c'era, non c'era, non c'era, non c'era nemmen questo. Non c'era... Ma c'era proprio Alessandro. Ma che tu fai, cazzo? Che mi dai il portiere? La palla ai portieri, no? È una affrescata. Ma poi che? La palla ai portieri lì? Ma almeno mai ha fermato! Ma almeno mai ha fermato! Oh via via, su, 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 andiamo, 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 andiamo. Ma schifoso! Stiamo qui sotto a parlare l'anno in mezzo da io! Noi siamo portati, perché io me ne intendo uno di te ti faccio, io te ne intendi troppo! Tu soffri troppo! Non c'è tre tendisi! Non c'è nemmeno, non c'è una buona signora qua con l'interno sul giro! Sì, non c'è una buona signora qua con lì! Mi sapeva! Ma con lì qua, qua tu l'hai portato in mezzo all'arte, davanti alla rigore e portati per gli batti male o qualunque cosa! Si, cioè c'è troppo rischio, no? Sì, effettivamente, è un po' grosso, è un po' grosso, è un po' grosso. Madonna, ci hanno rimesso giù un'altra volta, con quelli i brischi. 7 e la 1, con la 11, con la 11, forza! Grazie a tutti! 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 Che va a venirci? Guarda che rivoluzione! Buongiorno! È andata lì! Non guardare! Oh! Che Dio! Invescigliere! Oh! Non ti provare! Non ti provare! L'eroe per noi che farà questi hafroni! Non ti provare! Non ti provare! Iniziamo a giocare! Un nervosia ragazzi però ragazzi! Comunque non si fanno punizioni! Ma non si fanno punizioni! Ma non si fanno punizioni! Ma non è! Non sono per noi quelli! Le pepe non sono per noi! Solo! No! No! Non lo spandava a parte! E' una vera di Udono! No! Ma se ne viste! Ma scelta di stare! Ah! Allora! No! Ma non esiste! Ma non esiste! Ma non esiste! No! VAT'AZU! No! Ma non c'è sì! Ma non c'è sì! Ma non c'è sì! Ehi! No! Via via via! Ciao 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 Sì Che faccio male Questo sceglie Due e sei un petino Due e sei un petino puoi dire portarlo fuori dal campo no? ma è un crampo o no? si, un'aria? bisoccio! non si occupi ai ginocchi ho detto mamma mia fanno calmare l'imbicille fanno calmare dai basta, basta, basta Basta, mi schiaffa questi trai, basta. L'ha tolto il set, l'ha tolto, l'ha tolto. Bravo, 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 bravo. Ho visto, ho visto, ho visto. Ora con la show per bene o perdiamo? Non hai sui ricordo, non la porto a tanto bene. No, per il resto. Ho fatto! Ciao. Porta, portere qui ora! Siamo più uno, attacchiamoli! Siamo la più verdi da noi. Siamo la più verdi da noi. La disperazione spesso fa questa. Sì, però noi non si può accontentare. Stai a pressare, non si può accontentare. Stai a pressare, non si può accontentare. Non si può accontentare i sicili uomini. Eh, chi si fanno i quattro hit? Ha portato, l'ha messo... Anche perché non sono scarsi. No, tre portere. Noi sembrano scarsi, 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 scarsi. Vedi, infatti l'ha portato i Galli. L'ha messo un altro difensore giovane. La portata di Galli è il costo di sette. Perché il sette è un'importante in mezzo al campo. Sperando riesco a fare il solito. Quindi... Si, si stetà. Si sono andato sostenuto. Poi ritravo in 13. Passa una, così. Ecco l'uomo! Bravo! Non lo ha dato, non lo ha dato fuori show. Non lo ha dato fuori show. Non lo ha dato fuori show. E' data lì? era proprio in linea era in linea non si può dire nulla all'arbitro si di fatti la padrone toccava l'altro però se l'era prima come l'è non so ma smette ma stiamo la padrone mi va a morire lo tiene nel momento sbagliato vai siamo tu vai bravo 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 Ma che ci stiamo a fare 5 dietro? Eccolo! E allora! Oh, che credo! E' un'ora e mezzo. Ma se io devo dire la domenica a partire in questa maniera. T'ha fatto con un ingresso! Io ti faccio andare a partire in questa maniera. Io ti faccio andare a partire un pallo. Poi, tiriamo un po'. Sì! No! Vabbè, paura! Non c'è, vivi! E adesso... E adesso, sul dischetto è il rigore. E che faceva? A questo figlio è il secondo padre. E' andata quasi forte. Deve uscire ad avverrò la piccola. Poi, la piglia un d'oro. No! Mi metto a capo! La' fatta che bello. La' fatta che bello l'ha fatto. La' fatta che bello. Non lo voleva fare in quella maniera. Allora, non il sinistro. Vieni quanto mi metti. Ti ho fattuto la faccola. Ti ho fattuto la faccola. Ti ho fattuto la faccola. Non fattuto la faccola. per le scariche per cambiare eh mantieni molto in due tanto ve lo passo 20 minuti io mi lieto patisco di più io dai 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 crea due vinci è sempre il 7 arbitro andate un vinci due ma bene così fai forzo e va bene grazie 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 a tutti. 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 Puoi dire? Grazie a tutti. Grazie a tutti.